Eccoci qui dopo qualche giorno e non ero riuscito ad andare avanti Riprendo Final Fantasy XV Da parte multiplayer Ho dato una spuntatina ai capelli Mi è ricresciuta la barba durante questa settimana E ho cambiato completo Prendendo quello degli Angioni Si chiama Angioni? Non mi ricordo come si chiama Angoni, degli Angoni Ok Che c'è? Pulire una sola, sediamoci a bella ripulita E facciamo un po' schifo Ah, bello fresco Eeeh Le armi, le potenze, no Allora nel frattempo ho fatto la missione Di livello 25 Ho provato a farla, sono riuscito a farla senza grossi problemi La rifacciamo insieme così La vediamo Tanto abbastanza facile perché lasci che se lo smazzolano gli altri tre stronzi E tu fai quello che puoi E tu fai quello che puoi Certo con PV 565 Vediamo se posso Mettermi qualcosa Mi ritiro un po' sull'arco Ultimamente non lo sto usando Ma il PV non me li smuove Niente Vabbè, lasciamo così per il momento Un po' sull'arco Grazie a tutti. Ma perché offline? Allora abbiamo un paio di compagnozzi con livelli abbastanza alti quindi dovrebbe essere abbastanza semplice completare la missione e un PNG che farà abbastanza schifo come me probabilmente. Qua mi sa che si sta buggando. Provo a non schiacciare niente. Come nessuno ha risposto. Vediamo se carica. Speriamo che si toglie. Tra l'altro Robin è quello a me. Grazie. 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 Cazzo sto. Ok. Si è bagato di brutto. Qui. Non so dove sono finito. Proviamo un po' andare in giro. Sto sotto la città. Credo. Almeno mi vedo. Chi sono qua? Ah, delle persone ci sono. Vediamo dove riesco andare a questo punto Volevo farmi la missione invece a quanto pare Dove cazzo sto finendo? Porca troia Oddio Dove cazzo sto? Sto parecchio sotto Vediamo se si riesce ad andare ancora più avanti Certo che a questa velocità Sto sotto la centrale praticamente Questa centrale Ah ok Si fa fare No speriamo un po' Questa è il nero Il buio Eh niente sono bloccato qui Tutti io li trovo in fase Oh cazzo Qualcosa sotto la centrale Ah ok Quindi praticamente Mi vede come se fossi nell'online Però Sono tornato in città Eh per qui non c'è modo di risalire Credo Cazzo succede Questo che cazzo è Da qui non mi schiodo Va bene Devo uscire e rientrare ovviamente Per far ripartire il gioco Qui non credo che posso far niente No Devo per forza uscire Va bene Lo chiamerò episodio bug Questo E' un po' Grazie.